In occasione del grande concorso ipico di Vienna è stata organizzata un'eccezionale quadriglia equestra in costume Luigi XV. Un gruppo di cavalieri caracolla su magnifici cavalli bianchi che provengono dal famoso allevamento imperiale di Lipizza. Un gruppo di cavalieri caracolli bianchi che provengono dal famoso allevamento imperiale di Lipizza. Un gruppo di cavalieri caracolli bianchi che provengono dal famoso allevamento imperiale di Lipizza.